Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Avevo bisogno di un video che andasse a chiudere questo 2020 e questo book tag è arrivato a salvare la situazione. Si tratta del f*** 2020 book tag, un video e un titolo con cui ci lasciamo dietro alle spalle definitivamente quest'anno traumatico e tragico sotto tanti punti di vista. Ho visto il tag sul canale di Tiffany di Miss Fiction Books, sotto vi lascio il video. Sono una serie di domande in cui andremo a fare un altro recap dell'anno appena trascorso, quindi io direi di non perderci in chiacchiere, sotto vi lascio le domande tradotte se avete voglia di ripropore il tag da qualsiasi altra parte e quindi cominciamo con la prima domanda. Prima domanda personalmente un po' scomoda, condividi alcune cose buone che sono successe nel 2020 e alcune cose brutte se vuoi. Tendenzialmente nella vita sono una persona molto molto negativa in tutto, vedo sempre e costantemente nero. Faccio molta molta fatica a tirare fuori della positività da quello che mi succede, da ciò che vedo, ciò che ascolto, insomma, da un po' dalle situazioni in generale, perché proprio sono una persona estremamente negativa e molte volte anche quando non c'è bisogno di essere negativi, io lo sono a prescindere perché la mia indole sono fatto così ed è difficile che vedo il bianco nelle cose. Per me è sempre tutto molto 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 nero e quando anche è bianco tendo proprio a portarlo sul nero, al massimo grigio. E si dice sempre di trovare il lato positivo delle cose, che è molto difficile spesso e soprattutto in una situazione come quella che abbiamo vissuto nel 2020, che ha toccato tutti noi e io faccio una certa difficoltà a trovare del positivo nel 2020. Faccio una certa difficoltà perché per forza di cose non è stato un anno facile per tutti, me compreso. È un anno nel 2020 che ha messo tanti paletti, per forza di cose, perché non poteva essere altrimenti. E ci ha impedito di conseguenza di fare tanto. Quindi il 2020 per me è stato un anno molto molto monotono, sotto tanti punti di vista. E trovare del positivo, ripeto, per me è difficile. Sicuramente una cosa che mi riempie il cuore di gioia è YouTube, che continua appunto a crescere, quindi sono molto felici di questo. Di volta in volta vedo crescere e aumentare sempre di più questa piccola community che comunque mi sono creato. E ovviamente, anche con orgoglio comunque, posso dire che mi rende davvero molto molto felice. Le cose positive in questo 2020, anche dal punto di vista personale, sono davvero molto poche. E per quanto mi sforzi, non riesco a trovare più di tanto. Sicuramente un'altra cosa di cui sono grato è l'avere attorno amicizie come quelle che mi sono creato su YouTube, che quotidianamente comunque mi sono a fianco e mi rendono felice. Sono ormai diventate presenze costanti nella mia vita, che anche da lontano comunque si fanno sentire. Quindi forse sì, un'altra cosa positiva di questo 2020 è che queste amicizie continuano ad esserci. E, boh, per il resto questo. Spero che voi comunque riusciate a trovare tanto altro di positivo in questo 2020. Io spero che comunque, andando avanti, le cose miglioreranno per tutti, per me compreso. Dall'altra parte, di cose negative invece ne sono successe. Questo 2020 mi ha messo alla prova tante e tante volte, partendo dal Covid, ma è una situazione comunque comune a tutti, che quindi ha impedito di fare tanto. Insomma, la pandemia è stato qualcosa che sicuramente ho sofferto parecchio, come tutti del resto. Un'altra cosa che ho sofferto molto in questo 2020 è stato il mio rapporto molto stretto con gli ospedali. Io per primo sono stato ricoverato in ospedale in questo 2020. È stato un periodo molto, molto difficile da superare perché avevo tante cose per la mente e in quel momento quella situazione mi ha tarpato le aglie ancora di più. Insomma, è stato un anno che mi ha procurato tante ansie, che ho sempre nella vita tante paure, tante domande, tanto nervoso, tanto stress. Però, insomma, ecco, è stato un anno importante che sicuramente non dimenticherò. E questo è. Passiamo ad altro con la seconda domanda. Quale libro hai amato particolarmente all'inizio dell'anno? Siccome voglio evitare di mostrarvi gli stessi libri, magari dei libri che poi rivedrete anche nei migliori libri del 2020, voglio mostrarvi un libro che, spoiler, non sarà nella classifica dei migliori libri del 2020, ma è stato un libro che, soprattutto ripensandoci poi nel corso dell'anno, io ho adorato particolarmente. E si tratta di Red Rising di Pierce Brown, primo libro di una trilogia con i suoi sequel, di cui ho letto i primi due libri. In particolare, ho amato ancora di più il secondo libro, un libro yangado distopico che crea un immaginario che mi ha affascinato fin da subito con tutti i difetti che questo libro ha, perché di difetti all'interno del primo libro, soprattutto di Red Rising, ce ne sono parecchi. Ma è stata una lettura che, come vi dicevo, in modo particolare durante il corso dell'anno, ecco, io sono ritornato molto spesso a questa storia, a ricordare quello che è successo ai Red Rising, i suoi personaggi, e soprattutto l'immaginario che Pierce Brown è riuscito a creare. Un immaginario che è la carta vincente, forse, di Red Rising. E inizialmente, nel primo volume, l'ho trovato estremamente confusionario, ma nell'effettivo ha qualcosa di tremendamente convincente, affascinante, e anche originale, sotto certo un punto di vista, perché riesce a prendere tante cose che abbiamo già visto all'interno di altri libri, soprattutto young adult, ma riesce a unirli insieme in una maniera che sorprende, in qualche modo. Quindi Red Rising è stata sicuramente una lettura che, all'inizio dell'anno, mi ha appassionato tantissimo. Non vedo l'ora di leggere il terzo volume, che sto rimandando in continuazione, e spero di poterlo leggere proprio all'inizio del 2020. Quindi, per rispondere a qualcosa di diverso, ho voluto rispondere con Red Rising. Ah, poi forse non l'ho detto, ma comunque all'interno di questo libro ci sono dei grandi personaggi, che hanno uno sviluppo molto interessante, soprattutto andando avanti con la storia. La terza domanda ci dice, un libro che stavi aspettando e che non è stato eccezionale quanto pensavi? Rispondo con una certa sicurezza a questa domanda, e rispondo con Aura Rising, di J. Kristoff e Amy Kaufman. Questo era un libro che io aspettavo particolarmente. Primo, perché J. Kristoff è uno dei miei autori preferiti di sempre, e secondo perché questo duo, ovvero quello della Kaufman e Kristoff, li avevo particolarmente amati con la trilogia di Illumine File, una trilogia che io porterò per sempre nel mio cuore e che amo totalmente, e speravo, visto anche il genere, anche qua fantascienza, di ritrovare comunque quel tipo di storia, quel tipo di narrazione, quel tipo di personaggi. Purtroppo non è stato così. Aura Rising si presenta come una classica opera di fantascienza, una space opera in cui seguiamo questo gruppo di personaggi, tutti molto diversi l'uno dall'altro, in giro in missioni per lo spazio. Il problema è che ci sono state tante scelte in questo libro che non ho apprezzato appieno, e che per forza di cose poi hanno inflitto sul mio giudizio finale alla storia. In modo particolare i personaggi, a parte Finian, che reputo meraviglioso, gli altri li ho trovati particolarmente stereotipati, anche le relazioni che intrecciano tra di loro non mi hanno convinto al 100%, e la storia mi è sembrata piuttosto debole in alcuni punti. È una lettura carina, godibile, sicuramente di puro intrattenimento, però mi è mancato qualcosa nel leggere Aura Rising, forse anche quella simil complessità che invece era il Lumine. Qui mi è sembrato tutto molto telefonato, già sentito, non ci ho visto niente di nuovo, e poi ci sono state delle scene abbastanza cringe, che no, boh, non mi ha convinto, non è un libro che mi ha fatto schifo, assolutamente no, leggerò i seguiti, assolutamente sì, perché voglio vedere come andrà avanti la storia, però mi aspettavo appunto tanto, tanto, tanto di più da questo libro. E invece purtroppo, ecco, è stata una piccola delusione. Quarta domanda, un libro che ti ha sorpreso? Quest'anno davvero tanti libri mi hanno sorpreso, ci sono state tante letture che non avrei mai pensato potessero arrivare a piacermi così tanto, ma in modo particolare ce ne sono due, che quest'anno mi hanno sorpreso sopra ogni immaginazione. La prima è per forza di cose La Catena d'Oro di Cassandra Clare. Non avrei mai pensato, dopo la trilogia di The Dark Artifices, che io reputo il punto più basso di Cassandra Clare, cioè lì siamo arrivati a toccare punti davvero molto molto brutti. Ecco, dopo il finale, dopo gli ultimi due libri della trilogia di The Dark Artifices, quindi nel complesso tutta quanta quella parte di storia di Shadowhunters, non avrei mai immaginato di tornare ad apprezzare così tanto il libro di Cassandra Clare, perché La Catena d'Oro si è rivelata una vera e propria sorpresa, sia per quanto riguarda il modo in cui Cassandra Clare racconta di questi personaggi, e soprattutto i personaggi stessi, che ovviamente reggono tutto il gioco, cioè sono loro che comunque riescono in qualche modo ad essere interessanti, hanno delle caratterizzazioni che comunque mi hanno preso tanto. Anche tutti gli inciuci che ci sono tra loro, perché ovviamente Shadowhunters si parla di questo, cioè non è che abbiamo una trama sviluppata, forse nella Catena d'Oro è anche meno visibile una trama rispetto a tutti gli altri libri. Qui ci concentriamo davvero moltissimo su quello che sono i personaggi, le relazioni che ci sono tra loro, anche tutto l'aspetto di Shadowhunters, il mondo degli Shadowhunters, visto il momento storico che stanno vivendo, è tralasciato, quindi magari nei prossimi volumi questo avrà più succo. Però ecco, ci sono stati tanti personaggi che mi hanno preso, particolarmente il primo è Alistair, che io spero di vedere sviluppato nei prossimi libri al meglio, Cassandra Clare ti giuro, dopo Mark e Karen, se mi fai qualcos'altro del genere, mi arrabbio fortemente. Quindi sì, alla fine di tutto la Catena d'Oro per me, nonostante non sia il libro dell'anno, nonostante sia un libro discutibile sotto tanti punti di vista, mi ha sorpreso davvero tanto. Cioè, mi è piaciuto. Posso affermarlo, mi è piaciuto. Io non vedo l'ora di leggere il secondo. Cioè, come stiamo? E l'altra grandissima sorpresa di questo 2020, che non avrei mai immaginato effettivamente potesse piacermi così tanto, è stato The Winner's Curse, di cui abbiamo parlato molto all'inizio dell'anno, perché è stata una trilogia che mi ha davvero appassionato, ossessionato in maniera totalizzante. È una trilogia che non mi sarei mai aspettato, perché anche per la sua best grafica, non lo so, l'ho sempre voluta leggere, ma allo stesso tempo non mi è mai passato per la mente che fosse una lettura così tanto degna di nota. E invece no, perché la Lutkowski, oltre ad essere un'attrice meravigliosa con uno stile di scrittura secco che io adoro follemente, riesce a creare due personaggi indimenticabili. Kessel da una parte e Arin dall'altra sono una delle coppie migliori di cui io abbia mai letto nel panorama young adult, perché la loro è una relazione davvero molto molto complessa, che va al di là. E quindi tutti gli sviluppi che poi la trama ha, che si concentra anche su tanti antiaspetti, come l'intelligenza del personaggio di Kessel, che è un personaggio che io davvero pochi mi ho incontrati nei libri young adult, soprattutto femminili, del calibro di Kessel. Ecco, è un libro che è una trilogia nella sua totalità, che mi ha sorpreso. Non avrei mai pensato che potesse effettivamente piacermi così tanto. E andando avanti, poi arrivando all'ultimo volume, i discorsi si fanno sempre molto molto più profondi e è incredibile. Ve la consiglio assolutamente. Tra l'altro, se avete bisogno di motivi ulteriori per leggere la trilogia di The Winner's Curse, ne ho fatto un video senza spoiler, che potete vedere tranquillamente. Ve lo lascio nelle schede. E niente, lasciate che la trilogia di The Winner's Curse sia la vostra sorpresa per il 2021. Quinta domanda. Un libro che non è piaciuto a nessuno, ma a te sì, oppure che non se ne è parlato abbastanza. Questo libro che tranquillamente potrebbe rispondere anche alla domanda prima, ovvero la sorpresa del 2020, ma risponde anche a questa. Perché Ballata, Del Signore e del Serpente è stato un libro di cui si è parlato tantissimo in questo 2020, davvero davvero tanto, e che non è piaciuto letteralmente a nessuno. Io sono uno dei pochi, credo, quei quattro cani che hanno apprezzato questo nuovo capitolo di Hunger Games. Premetto che fin dall'annuncio di questo libro, dove la Collins sarebbe ritornata dopo dieci anni a parlare nuovamente di Hunger Games, ecco, non ho ricevuto nessun tipo di stimolo da questa notizia, perché non riuscivo a capire cosa ci fosse da raccontare in Hunger Games, oltre a quello che già conoscevamo, quindi la storia di Katniss e della sua, appunto, trilogia. Non riuscivo a capire come l'universo di Hunger Games potesse essere in qualche modo esplorabile ancora di più, soprattutto avendo come protagonista Snow, un personaggio che noi comunque conosciamo dalla trilogia precedente e sappiamo essere il nemico della nostra protagonista principale. Quindi ero partito molto sfiduciato, ovviamente non vedevo l'ora di leggere perché Hunger Games è stata una trilogia che ho particolarmente amato in passato e quindi questo ritorno per forza di cose mi incuriosiva. E devo dire che quando ho cominciato a leggere questo libro con cui, ripeto, sono partito con zero aspettative, mano a mano, andando avanti, mi sono ritrovato a leggere di una storia che trovavo sempre più appassionante e credo che la Collins, appassionante forse non è il termine giusto, perché non è appassionante, è interessante, perché la Collins riesce a fare un grande lavoro con il personaggio di Snow. Noi sappiamo che tipo di personaggio è Snow, che tipo di persona si nasconde del personaggio di Snow, sappiamo cosa farà nel futuro, sappiamo cosa farà a Katniss, sappiamo cosa farà a Capitol City e per forza è un personaggio che fin dall'inizio tu condanni, nonostante lo vedi in una situazione diversa, quella della sua quotidianità, da adolescente, con la sua famiglia, sembra quasi un personaggio innocente inizialmente, ma non è così. E andando avanti, la Collins prende a mostrarti sempre di più del carattere e della personalità di Snow, cosa si nasconde dietro a questo ragazzo, quali sono i suoi problemi, quali sono appunto le sue difficoltà, tutto quello spettro che poi lo porteranno ad essere la persona che noi già conoscevamo in precedenza. Credo che la Collins abbia fatto un grandissimo lavoro con il suo personaggio e la sua psicologia così attentamente analizzata. Ovviamente ci sono delle parti meno riuscite, all'interno di questo libro è eccessivamente lungo e molte persone, anzi la maggior parte delle persone si sono proprio accanite contro il personaggio di Snow. Ma credo che va compresa il tipo di storia che la Collins ti sta raccontando. Per ovvi motivi, quella di Snow, il suo personaggio, non sarà mai un personaggio con cui il lettore potrà identificarsi oppure apprezzare, entrare in empatia in nessun modo, perché sappiamo cosa farà. Ma appunto è interessante proprio vedere quell'altro punto di vista e credo che la Collins sia stata molto molto brava in questo. Nonostante tutto, nonostante i tanti difetti di questo libro, nonostante, ripeto, le parti meno riuscite, è un libro che a me è piaciuto veramente moltissimo. Sesta domanda, un libro che vorresti vedere già pubblicato quest'anno, nel 2020, anche se ormai è andato. Ci sono tantissimi titoli che avrei voluto vedere pubblicati durante il corso del 2020, se mi guardi in giro me ne vengono in mente tantissimi. Per esempio, il quinto libro della Folgoluce, ma se ne parla per il 2023, quindi atteniamoci a qualcosa di più concreto, ovvero The Midnight Lie di Mary Rutkowski. Sì, un altro libro della Rutkowski, anche questo comunque collegato a The Winner's Curse, ho letto tutto quello che era disponibile della Rutkowski, che purtroppo ad oggi è molto molto poco, e questo è un libro, primo libro di una teologia, che si conclude con uno di quei finali davvero cattivi, cioè proprio quei finali infami, in cui con una sola riga, con qualche parola, ecco, l'autrice riesce a cambiare tutto il senso del libro e tutto quello che potrebbero rappresentare i personaggi poi nel futuro. Se avessi avuto il secondo libro, appena finito questo, mi sarei immediatamente fiondato a leggerlo, ma sfido chiunque a concludere The Midnight Lie e non avere la necessità fisica di leggere il secondo, perché davvero il finale, l'ultima frase del libro mette tutto in una prospettiva diversa e molto molto interessante. Non vedo l'ora di leggere il secondo libro, avrei voluto vederlo pubblicato nell'immediato, purtroppo non è stato così, dobbiamo aspettare ancora tanto tempo, perché se non sbaglio uscirà a settembre 2020, ma non vedo l'ora di sapere come andrà avanti tutto questo e spero che la Rutkowski riesca in quello che qui ha solo anticipato, perché sembra essere davvero incredibile. Settima domanda, un libro che attendevi con impazienza per il 2020, ma che è stato appunto rimandato al 2021. Anche qui la domanda è davvero proprio botta risposta, perché ovviamente Empire of the Vampire di Jay Kristoff che era stato annunciato per il 2020, ma all'inizio forse del 2020 è stato annunciato che sarebbe stato invece pubblicato un anno dopo, inizialmente era previsto ad autunno 2020 e verrà pubblicato ad autunno 2021. Questo è uno dei libri che aspetto di più in assoluto da quando è stato pubblicato, perché insomma Jay Kristoff che mi parla di vampiri, chiunque potrebbe parlarmi di vampiri, ok? Ma se lo facci Kristoff, se lo facci Kristoff, ecco, quest'autunno 2021 è così tanto lontano che quasi fa male e l'idea che avremmo già potuto leggere questo nuovo libro di Jay Kristoff è terribile, è davvero terribile. E infine, ottava e ultima domanda, a quale libro guarderai pensando al 2020? Questa è una domanda molto difficile e a cui sto pensando tanto nell'ultimo periodo perché sto stilando appunto la classifica dei migliori libri del 2020 e sto avendo tante difficoltà perché più che mai questo 2020 mi ha portato a leggere di libri che davvero sono diventati alcuni tra i miei preferiti in assoluto ma se c'è un libro due facciamo che nel 2020 mi sono particolarmente rimassi impressi e che non necessariamente forse saranno i miei preferiti sono da una parte sicuramente Dune perché Dune l'aver scoperto Dune quest'anno è stato per me davvero una scoperta cioè io sono entrato in un mondo con Dune che mi ha accompagnato durante il primo periodo della quarantena quindi anche per questo forse mi rimarrà particolarmente impresso e mi sono letto i primi tre libri di Dune tutti di una volta quasi quindi per forza di cose sono proprio entrato nell'ottica di Herbert nell'ottica dei personaggi di Dune nell'ottica della storia e questo è un libro a cui ovviamente penserò tantissimo se mai dovessi ripensare al 2020 prossimamente ma l'altro libro per motivi diversi è sicuramente Il mare senza stelle di Erin Morgenstern perché questo è un libro che forse più di tutti per me è stato un libro molto personale in questo 2020 un libro che mi ha toccato proprio dal punto di vista intimo quindi sicuramente è stata un'uscita che ha fatto tanto parlare di sé ovviamente ma è stata un'uscita che forse anche qui ripeto non sarà la mia preferita nel 2020 o forse sì non lo so chi lo sa però comunque è sicuramente un libro a cui mi ritroverò a pensare sicuramente quindi sì forse con quasi assoluta certezza mi trovo a rispondere con questi due libri sì bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo tag io come vi ho detto vi lascio sotto le domande vi aspetto nei commenti facciamo un recap insieme di questo 2020 quindi anche del vostro 2020 fatemi sapere un po' del vostro anno delle vostre letture delle vostre sensazioni di quello che vi ha lasciato e di quello che ricorderete del 2020 vi aspetto nei commenti io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi